Spieghiamo agli amici di Treba come si preparano le scarciarcelle 2 Adappare sopra Aaaaaaah Aaaaaaah Aaaaaah Allora 750 di farina 250 di farina 250 di di farina di burro 4 uooooooove 400 di zucchero una bustina una frolla perché è adatta per il bambino è molto facile prendo la farina fontana mettendo le uova si trova con l'acqua non che l'acqua si fa l'impasto si amalgama tutto bene 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 ma quando è bella la massa si stende con materno si fanno le forme alcuni ne fanno pecore colombe colompe colompe fanno le formine che piacciono ai bambini Po pigu e vittangiu meee come li vuoi quattro uova due uova un uovo quattro uova dipende l'uovo so so che poi si mette sopra però ci sono se uno vuole fare per esempio l'anissi non glielo mette l'anissi a quando la si fa un po' di farina nella teglia non l'olio l'olio a piccio un forno e a meee secondo il forno se è ventilato o meno un quarto d'ora un po' di zucchero e gli anissini poi dipende dal gusto uno può mettere delle scaglie di cioccolato fighiish munite qui fai le tutto chi scusa adesso vanno tutti per i panifici non è che è raro qualcuno che li fanno ancora in casa allora auguri delle belle della nostra televisione della nostra caaaaaaạo cazaaa